Buongiorno, mi chiamo Fabian Favalli e lavoro per l'Associazione Mantovana Allevatori come ispettore di razza, in carico affidato da ANAFI, Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisone Italiana. In questo ruolo sono stato chiamato più volte a dover gestire gruppi di animali, spesso numerosi da preparare e presentare per le esposizioni zootecniche, ed ho avuto la necessità di avere al mio fianco un gruppo di lavoro volenteroso e motivato. Sulla mia strada ho incontrato l'Istituto di Castelnuovo nei Monti, con il quale da tempo abbiamo instaurato un rapporto proficuo. Gli studenti hanno collaborato nello svolgimento delle due fiere che svolgiamo a Gonzaga, a gennaio ed a settembre, oltre che a Cremona, in occasione della Mostra Nazionale, l'appuntamento più importante dell'anno zootecnico. Lavorare con gli animali è quanto di più bello possa esserci per un tecnico, acudirli, nutrirli, governarli, lavarli, fare tutto quanto è necessario per farli apparire al loro meglio. Il tutto nell'ottica di garantire loro il massimo benessere possibile. In queste fasi l'apporto dei ragazzi e delle ragazze, soprattutto, è stato fondamentale e tutti loro hanno dato anima e corpo nel lavoro. Personalmente vorrei ringraziare sia la dirigenza scolastica che i professori per il supporto che ci hanno offerto in tutte queste occasioni. Anche se il plauso più grande va sicuramente ai ragazzi che negli anni ci hanno aiutato affrontando momenti belli e brutti e portando a casa un'esperienza difficilmente contenuta dei libri. Grazie a tutti e alla prossima!